Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Tu sei bravo a pieghiacci. Go, 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 go. Parla che la bocca viene e le mani occupate. Te so vergoglioso. Te non te svegliaco. Tutto bello elegante ed entra una bara. La caca! Porco Dio! Porco Dio! Ci avevo mezzo chilo, mezzo chilo di acqua in gola! Ma che è sta cosa? La caca! Ok? Arciere o no li so a memoria ormai? Dannazione! Ok? Domatroie sul maiale! Il lato positivo. Sua base K3 della X-Edition a 25 euro femmine e a quegli stronz dei mod. Freddi! Non ha senso, se arriva da lì no, non ha completo, non ha senso perché quelli si muovono, è inutile che muovi le orecchiette. Ci proviamo. Secondo me ci vengono appresso lo stesso. Marketing! A un certo punto ho scritto, con tutto quello che è costata quella crostata. E guardando ho notato che costata e crostata hanno in differenza solo una lettera e questo per me è incredibile. Cioè va bene che uno più uno fa due. Cioè va bene che uno più uno fa due. A un certo punto ho scritto, con tutto quello che è costata quella crostata. E guardando ho notato che costata e crostata... Cioè va bene che uno più uno fa due. Cioè va bene che uno più uno fa due. Do you think you're better than me? Nooo, nooo, non ti prego, Gesù! Non mi toccare, non mi toccare, vattene via! Ehm! Sbagliato di un per- Ma è.. Ma è la madre o è la moglie? Ero figa! Dio io! Tra cucciolo! Chi è? Pialo? Pialo.. Ma che cazzo te balli porco Dio! Uh baby bada a m. 261 o 300. Giovanni Paolo II è il papà numero? 300. Oh no, non ho proprio capito. Mi ripeteresti ciò che hai detto? 300 Scusami, non ti ho sentito bene. Potresti ripetere per piacere? 300 Oh no, non ho proprio capito. Mi ripeteresti ciò che hai detto? Ho detto 300 300 o 261? Giovanni Paolo II è il papa numero? Io credo 300 300 o 261? 300 Uffa, ho capito male. Puoi ripetere? 300 Oh no, non ho proprio capito. Mi ripeteresti ciò che hai detto? 261 Oh no, non ho proprio capito. SIEUUUUUM Ciao Gianno, su Lollodam. Ho sentito il discorso che hai fatto per il tuo 2021. Mi dispiace molto, ticadino, ricordati che anche se non ci vede molto in stream che se vuole bene, ed è così per tutta la community. Cuore rosso. Meno male che non hanno scritto hit me, avrebbe stato un po' diverso, un po' strano. Sì, sì, sì! Sì, non avevo visto che era verticale, 31 orizzontale. 31, non ci vuoi morti tu per casalinga, mignotta. No, non c'è sta purtroppo quello. Le leve non so funzionate, cioè non funzionano. LUCAZZI! LUCAZZI! No, 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 il tuo incubo è più grande, ragazzo. Se non sbaglio, devo andare qui. Domandina. Cica, teoricamente. Sì, ma lo vada! Cori! Cori! Che vabbè ha fatto in gli occhi corso con le bagarozzi! Ah! Sì, su Cristo della Madonna! Mi è, frate, vanno a 3.000! Tocca a fare... Devi mettere il freddo davanti alla porta da... Che vabbè ha fatto in gli occhi corso con le bagarozzi! Proviamo! Terza! Ok! 4, 3, 1, 4! Ok! Sotto! Sinistra! Sopra! Sei arrivato! Sopra, sinistra, sotto, scusa! Sì! String! It's about drive! It's about power! We stay hungry! We devour! First fucking try! E pupate anche la fava, pupate! Mamma mia! Come te... Ozi, il tempo rimanete un minuto e 20! Annichiliti! Sì, sì, riga di...